E' arrivato questa mattina l'albero di Natale di una piazza del popolo che appena ieri sera era stata liberata dalle transenne dopo dieci settimane di cantieri. Il simbolo delle festività pesaresi sarà illuminato da centomila luci a led a basso consumo che si innescheranno nella cerimonia di accensione fissata per l'8 dicembre alle ore 18. 8 dicembre che sarà anche la partenza di Pesaro nel cuore. Il Natale pesarese che il sindaco Matteo Ricci ha annunciato come un Natale ancora più bello ma con meno energia sprecata. Non ci saranno infatti luminarie, le luci saranno circoscritte all'illuminazione dell'albero e a quelle di sculture luminescenti che saranno collocate nella porta d'accesso al centro di piazzale Lazzarini, Matteotti, Collenuccio e Corso 11 settembre. Non mancherà però un ricco programma di iniziative. Abbiamo preparato un programma veramente interessante, un programma più articolato e più diciamo bello rispetto agli altri anni proprio perché volevamo far sì che nonostante il caro energia che ci ha portato via pista di pattinaggio e luminare nel centro storico possiamo in qualche modo scaldare il cuore dei pesaresi e dei tanti turisti che ci verranno a trovare in questo periodo. E quindi si accende Pesaro nel cuore dall'8 di dicembre all'8 di gennaio in Piazza del Popolo e in tante altre location della città avremo la possibilità di assistere a spettacoli di danza, spettacoli di musica, avremo la possibilità di assistere agli spettacoli di coccole sonore che porteranno in centro a Pesaro tanto divertimento, avremo la possibilità di gioire assieme a delle performance di cori gospel che in città porteranno l'atmosfera natalizia. Partecipiamo insieme a tanti bellissimi altri eventi a colorare il Natale di Pesaro. Quest'anno siamo sul palco, bellissimo palco, messo a disposizione dal comune dove ci sarà praticamente uno spettacolo tratto dalla puntata che è in onda su Cartonito in questo momento della serie Whisky sui amici. Quindi sarà uno spettacolo interattivo fra video coloratissimi, bellissimi canzoni, balletti e recitazione. Inoltre abbiamo dei gazebi dove facciamo dei laboratori, proposte diverse, balli, canti, laboratori, giochi e cucina, una piccola variante sul Natale a Pesaro. Al fianco di DNA la macchina rodata di Pesaro Village sarà parte integrante delle animazioni di un mese di festività natalizie, così come rodata e la collaborazione con il liceo artistico Mengaroni, con gli studenti delle classi terze di arti figurative e interior design che hanno realizzato le palle decorative dell'albero. Questa è una pallina di Natale che abbiamo decorato in classe durante le ore di laboratorio. Possiamo vedere che sui toni del blu e del bianco e dell'argento abbiamo usato degli smalti e ci siamo ispirati a diverse palline di tema di paesaggi vintage. È stato un progetto molto bello proprio perché noi in generazione Z siamo abituati al moderno, alle luci, a vedere tutto tecnologico e ci ha aperto uno spiraglio, un faro su magari tradizioni che avevamo dimenticato e avevamo abbandonato. Quest'anno in modo particolare, perlomeno a me è piaciuto e penso anche ai ragazzi, il soggetto, il tema sul risparmio energetico per cui c'è stato un recupero ma anche di un Natale più sobrio, più tradizionale che non è detto sia peggio, anzi forse c'era bisogno di recuperare anche dei valori. Poi alla fine il Natale è bello e sfido chiunque a pensare che le palline di Natale, di un albero di Natale non siano affascinanti. Per cui i ragazzi hanno lavorato a questo soggetto. Pensando però anche addirittura a delle decorazioni vintage per cui ancora un recupero più tradizionale del tutto. Saranno tante le vie del centro a essere animate da un Natale all'insegna della solidarietà come via Corel dove ci sarà il luogo dedicato al villaggio natalizio dell'Avis. È un po' un azzardo perché è lontano dalla piazza ma è anche la strada dove c'è la nostra sede e vogliamo donare a tutti i cittadini di Pesaro un piccolo villaggio di Babbo Natavis perché di solito parlare di sangue viene associato sempre a un evento brutto invece noi lo vogliamo associare a un evento bello che è quello dell'atmosfera natalizia e abbiamo creato appunto questo piccolo villaggio dove ci sarà un piccolo pony, la casetta di Babbo Natale e l'angolo per scrivere le famose letterine per poi spedirle direttamente nella cassetta di Babbo Natale che si troverà lì. Quindi vi chiediamo a tutti di allungare la passeggiata fino a via Corel e di venirci a trovare.